Eccoci tornati in diretta, mercati sotto la lente, naturalmente stiamo monitorando le contrattazioni di oggi dopo la situazione sicuramente molto negativa che si è verificata ieri sui mercati mondiali a partire dai listini europei ma arrivando fino in America e anche in Asia questa mattina dove le borse si sono mostrate un po' in affanno. Intanto il Fuzzimib è rialzo dello 0,17%, andiamo a vedere anche su questa piattaforma, qui lo dà in territorio negativo, stavo guardando anche i principali rialzi e ribassi sul Fuzzimib, Fineco Bank guadagna l'1,51%, Inuit lo 0,82%, STM lo 0,79%, Moncler lo 0,73%, invece Pirelli cede l'1,34%, Leonardo lo 0,97%, Telecom lo 0,92%, Buzzi Unicem lo 0,71%, il CAC di Parigi cede lo 0,75%, a noi la situazione sembra abbastanza negativa, l'Ibex è in realtà in territorio positivo 0,17% ma insomma diciamo che la giornata non inizia proprio con il piede giusto, forse era anche ovvio dopo la situazione anche che si è verificata a Wall Street con forti ribassi e soprattutto ancora con il clima di incertezza che si respira, ecco il DAX cede lo 0,18%, allora intanto io saluto Andrea De Gaetano che è con me per questa parte della diretta, Andrea bentrovato, buongiorno. Grazie amica dell'invito e buongiorno a tutti. Allora ci sono questa settimana al di là del monitoraggio rispetto a quello che succederà sul fronte Covid ma anche su quello che succederà ormai ce la dobbiamo aggiungere anche questa caratteristica diciamo delle notizie cioè le tensioni sociali che si sono verificate dopo il nuovo DPCM bisogna considerare che ci sono tante questioni, è la settimana della Banca Centrale Europea quindi giovedì ci sarà la riunione dell'Eurotower, peraltro sono stati già fatti alcuni annunci per chiaramente cercare di calmierare la situazione europea a causa del Covid e poi tra la settimana ci sono le elezioni americane, Andrea insomma tante cose che cosa fanno pensare, cosa fanno immaginare per quanto riguarda gli investitori e quindi di conseguenza i mercati? Sì allora in questo periodo credo che la cosa migliore sia quello di far passare questa settimana questi momenti che secondo me sono molto molto aleatori e anche perché abbiamo oltre alla BCE abbiamo anche delle trimestrali cruciali proprio dove lì, dei big tech quindi da Apple a Amazon per fare due nomi importanti e abbiamo visto come effettivamente anche una trimestrale non per forza pessima ma semplicemente una revisione delle prospettive può generare degli effetti enormi, non questo si debba riverificare, però faccio un esempio che è quello di SAP che è il titolo libero europeo nel campo del software ed è bastato comunque una revisione a ribasso delle prospettive, chiaramente con inutili più bassi delle attese però per generare un sell-off di oltre il 20% che è un qualcosa che su quel titolo non si vedeva dal 99, quindi la mia impressione è questa che in un'ottica di medio termine ci siano tutte le premesse di stimoli monetari, stimoli fiscali, tassi bassi e anche ovviamente un superamento della pandemia che è una questione di tempo per trovare dei rimedi, tutto questo gioca a favore dei mercati che si riprenderanno, dall'altra parte nel breve termine invece è una situazione di grande incertezza che come giustamente hai fatto notare va a toccare i temi più disparati, tra cui anche quello sociale e di cui poi alla fine anche il discorso di un'espressione elettorale fa parte, per cui bisogna capire che cosa verrà fuori dalle elezioni americane. Diciamo che nel breve termine non avrei fretta di comprare, però nello stesso tempo starei a elettorare dei settori che secondo me possono rimanere trainanti, come per esempio quello tecnologico americano, biotecnologie, settori che hanno performato molto bene negli ultimi mesi, che era normale che prendessero una pausa di riflessione, una pausa di prese di profitto dopo un rally impressionante come quello che è partito in marzo fino ad agosto e a questo punto prendere spunto proprio da un catalizzatore, si dovrà vedere quale sarà, se sarà una trimestrale, se saranno le elezioni americane o una BCE, per poi andarsi a riposizionare senza fretta magari su titoli o su settori che magari vengono ingiustamente o eccessivamente venduti in un momento di panico e tutto il contesto favorisce questo tipo di situazione perché la tecnologia e gli algoritmi velocizzano i movimenti, quindi io mi aspetto di vedere cose tipo quelle che abbiamo visto, non necessariamente con SAP, ma magari movimenti a rialzo o a ribasso abbastanza veloci e bisognerà secondo me essere abbastanza empissi nell'attare a posizionarsi essendo prima, avendo fatto prima una selezione di settori. Certo, certo Andrea, allora ci sono già dei messaggi, tra poco vado anche a leggerli con delle curiosità rispetto proprio ai market mover che poi possono influire maggiormente sui mercati, ti volevo però chiedere una cosa, mi baso anche sulle tue analisi e sulle tue riflessioni. Come abbiamo portato a casa il rating sull'Italia di S&P, dell'agenzia di rating appunto, che ha mantenuto il rating, l'ha migliorato peraltro, ha migliorato l'outlook da negativo a stabile? Sì, questa secondo me è stata tutto sommato una sorpresa, nel senso che la preoccupazione è quella di un debito che è salito molto rispetto al prodotto interno loro che viceversa è sceso ulteriormente e alla situazione che era già fragile prima della pandemia e adesso lo è ancora di più. Dall'altra parte le considerazioni che ha fatto S&P, rating, sono condivisibili, nel senso che il S&P rating comunque ha parlato di una serie di misure sia macroeconomiche europee, ovvero BCE e quindi un'attitudine generale dell'Unione Europea verso tollerare dei deficit più alti, stimolare, acquistare titoli per agevolare l'economia reale. Quindi questo è un punto. Dall'altra parte questa pandemia dovrebbe e ci si augura che poi effettivamente vengano implementate, però stimolando delle misure tipo fiscale e probabilmente uno snellimento di tutta una serie di procedure burocratiche che per noi sono quelle più gravi. Tutto questo porta a una revisione da negativo a outlook stabile il giudizio di S&P. Quindi volendo vedere appunto a livello prospettico, chiaramente abbiamo visto tutti questi BTP che comunque rimangono abbastanza tonici, ieri abbiamo visto comunque un gap up sul BTP di future dopo questa revisione positiva in attesa del rating, però dall'altra parte poi abbiamo visto che questo gap up, quindi questo momento di entusiasmo, il mercato si è rimangiato un po' questo gap e il BTP in questo momento siamo a 149,23, il BTP di scadenza a dicembre è ritornato sostanzialmente sui livelli del giorno precedente. Questo secondo me cosa vuol dire? Vuol dire che da un punto di vista strutturale l'Europa e la banca centrale cercheranno di sostenere i mercati, dall'altra parte a livello di questi stimoli, soprattutto se effettivamente demissero implementati come ci si augura bene, dovrebbero far risalire l'inflazione e dovrebbero stimolare più l'azionario dell'obbligazionario, rendere più attraente l'azionario dell'obbligazionario, perché effettivamente con dei tassi sostanzialmente vicini allo zero anche sulle scadenze lunghe, questo non è attraente per gli investitori, quello che voglio dire è che se un BTP decennale adesso rende lo 0,74, 0,73 e abbiamo il breve termine italiano che è addirittura negativo, fino al di due anni è meno 0,35%, questo chiaramente non è una bella opportunità di investimento, vengono comprati da investitori istituzionali che sono costretti per mandarti a comprare questi bond, preferiscono pagare lo 0,35 sull'Italia anziché andare a pagare lo 0,77 alla Germania, ma per un investitore privato non è una buona soluzione di investimento, quindi io in questo senso direi senza fretta, con pazienza, però più senso aspettare dei momenti magari di debolezza del mercato come quelli che stiamo vedendo, cercare di capire quale sarà il pavimento che il mercato trova per poi andarsi a riposizionare più sull'azionario che sull'obbligazionario. D'accordo, assolutamente, intanto c'è chi scrive, complimenti Andrea, sempre chiaro e lucido, ma perché sono anche credo le spiegazioni che in questo momento sono le più richieste, allora quindi Banca Centrale Europea attendendo la riunione di giovedì, naturalmente noi la seguiremo, lo ricordo i nostri telespettatori dalle 13.30 in diretta, quindi con la lettura del comunicato, la conferenza stampa e le domande chiaramente dei giornalisti che verranno poste a Christine Lagarde, dicevo quindi BCE che continuerà il suo sostegno e ti chiedo adesso rispetto, quindi andiamo in America, rispetto all'attesa per le presidenziali, c'è anche una domanda su questo, Alberto chiede se le elezioni americane potrebbero influire sul BTP, quindi che cosa potranno portare le elezioni in generale al mondo per così dire, quindi ai mercati mondiali? La cosa cruciale adesso in America sono le elezioni, forse ancora più cruciali sono l'approvazione di questi stimoli fiscali anche in America e quello che si sta vedendo è che i mercati nelle ultime settimane reagiscono molto più alle parole relative agli stimoli fiscali che alle elezioni, nel senso che il tema elettorale secondo me dopo il 2016 rimane un grosso punto di domanda di grande imprevedibilità, rimane il fatto che Trump ha molto più carisma di Biden e rimane il fatto, però effettivamente Trump si trova in questa fase, in un momento pandemico che sta avendo un'escalation negli Stati Uniti e chiaramente questa cosa espone il fianco di Trump a mille critiche per come ha gestito la pandemia. Detto questo, quindi siccome i mercati stanno guardando quindi più a quando verrà approvato lo stimolo fiscale che però starda a venire approvato, molto probabilmente sarà più grosso di quello che ci si poteva aspettare qualche settimana fa, nel senso che i democratici partivano da una richiesta di 2,2 trilioni di dollari, mentre i repubblicani sono saliti da 1,6 e adesso siamo tornati a 2 e bisognerà capire il timing, però è un gioco a rialzo, quindi anche questo secondo me dovrebbe essere positivo, quindi io direi che l'outcome, quindi il risultato più peggiore sarebbe quello di una incertezza o comunque contestazione, magari è una vittoria di Biden con Trump che contesta il risultato, stanno già iniziando le prime polemiche sulla modalità di apposta piuttosto che di persona, quindi è una situazione questa tra l'altro pandemica che poi si presta particolarmente a suscitare dei dubbi sull'esito elettorale, quindi questo secondo me è il più grosso timore, qualora vincesse uno o l'altro, secondo me i mercati amano di più Trump, nel senso che Trump di fatto ha stimolato e ha tagliato le tasse alle grosse corporation, questo per i mercati è positivo, Biden ha un programma diciamo abbastanza opposto, quindi un rinnalzamento delle tasse corporate a favore di misure più democratiche e questo potrebbe avere magari dei riflessi più di medio periodo, quindi dare più soldi se vogliamo al consumatore finale, quindi potrebbe essere positivo nel medio periodo, nel breve periodo secondo me potrebbe essere visto non bene dagli investitori. Certo, diciamo che è tornato un po' Trump in questa ultima fase della campagna elettorale aveva dato qualche segno di cedimento, ma insomma anche dovuto al suo proverbiale impeto durante i dibattiti, nell'ultimo no, meno, nel senso che è stato un dibattito sicuramente più tranquillo, qualcuno però proprio in queste ultime ore parla di scherzetto di Halloween da parte di Trump, cioè nel senso che potrebbe davvero riservare qualche sorpresa, perché sai no Andrea che i sondaggi ovviamente lo davano tra virgolette per spacciato rispetto a Biden, ecco può succedere ancora di tutto in questa ultima settimana quindi. Sì, ma infatti a me non stupirebbe alla fine vedere vincere Trump, devo dire, in questo senso proprio perché c'è un fatto di carisma, cioè quindi Trump ha molto più carisma rispetto rispetto a Biden, quindi quello secondo me rimane il punto, il tallone d'Achille di Biden può essere veramente fatale ed è legato proprio a un discorso di comunicazione più che di sostanza, poi dal punto di vista della sostanza ecco c'è da dire che effettivamente diciamo che gli americani, le grosse corporation di fatto si trovano mediamente più ricche rispetto a rispetto a come erano qualche anno fa prima di Trump, quindi a livello economico calcoliamo che nonostante la pandemia che c'è stata, la borsa, il mercato azionario è molto più alto di quello che era quando Trump ha iniziato, quindi questo ovviamente è un fattore positivo e quindi bene o male Trump al netto di come ha affrontato il tema pandemico e anche guardando come ha affrontato la politica internazionale, può essere criticato sotto mille aspetti, però di fatto ha fatto crescere l'economia americana e questo siccome è innegabile, dal punto di vista sociale ecco quello è l'altro tallone d'Achille invece molto grosso, siccome è per Trump, cioè a livello sociale le disparità si sono ampliate molto e quindi potrebbero essere una parte della popolazione che potrebbe scommettere su Biden sperando appunto in un restringimento di questo gap che è sui massimi storici, quindi pochissimi ricchi che hanno tutto e invece una classe media praticamente spazzata via. D'accordo, intanto c'è un amico, anonimo ovviamente perché è sempre così, che leggo, ma lo leggete anche voi se ci seguite su YouTube, che dice la pagherete tutti giornalisti e politici, è solo una questione di tempo, assassini, va bene, grazie per questo, non capisco, questo attacco in generale per tutti, state seduti, ecco sta continuando, quindi è anche utile, visto che si è parlato della tensione sociale, però in questo caso insomma anche abbastanza gratuita perché voglio dire prendetevela con chi magari, che ne so, pensate sia anche responsabile, prego, mi ringrazia anche, allora state lì seduti sulla vostra comoda poltrona a dire cazzate ma in che mondo vivete, va bene, non lo so, peraltro noi cerchiamo sempre di essere anche la via di mezzo, ma a prescindere, insomma ciascuno può avere la sua opinione, anche lui magari andrebbe espressa in un modo diverso, ecco un altro amico dice la sta manifestando in modo anonimo, appunto è quello che ho detto io, che si firmi nome e cognome e sono ben felice di portare avanti discussioni anche di questo tipo, tra virgolette, allora Andrea io leggo tutto, i miei telespettatori lo sanno, non ho problemi a leggere sia i messaggi di insulti positivi e negativi, Andrea non credo ci sia bisogno di un commento, ma insomma se vuoi lascio a te, però ti chiedo anche di andare verso le conclusioni e di dare magari qualche spunto operativo ulteriore per chi ci segue, insomma. Allora dal punto di vista di spunti operativi io appunto sono dell'idea di andare a cercare delle operazioni a ribasso sui bond, proprio alla luce di quello delle considerazioni in prima espresse, cioè l'inflazione scommessa lì là sta salendo, ma anche ieri abbiamo visto i dati sulle case americane, sono scesi i numeri di compravendite su nuove case, ma i prezzi delle case sono saliti del 3,5 su base anno, quindi quello che si sta vedendo per vari motivi è una risalita del costo della vita, risalita dell'inflazione, alla luce di questo nonostante il sostegno delle banche centrali, io penso che i bond, soprattutto quelli lunghi debbano correggere e quindi io mi posiziono più in un'ottica ribassista su questi tipi di strumenti, quindi in particolare sul T-Mot americano ed eventualmente anche sul BTP italiano, perché nonostante stanno uscendo tutte le notizie positive che possono uscire, quindi dal sostegno della BCE a S&P che alza il rating e a questo punto i prezzi siccome sono maturi scontano già il meglio, quindi io tendenzialmente sono ribassista su questi strumenti, viceversa per andare a comprare i vari settori sto aspettando ancora, nel senso che vado veramente abbastanza cauto in questa fase, perché nel breve, dopo il rally che c'è stato tra marzo ed agosto, questa correzione che è in corso potrebbe non essere finita, quindi non ho fretta di comprare nazionario, però allo stesso tempo sono abbastanza dell'idea di comprare per esempio l'Eurostox, già quest'area 3100 potrebbe essere già un primo livello interessante, direi questo sostanzialmente, sul cambio Euro-Dollaro è molto in mezzo, quindi può stare 1,18 e siccome è molto attendista, stanno attendendo anche loro, anche i cambi stanno attendendo le lezioni, per cui anche su quello io sarei più su area 1,21 per andare a comprare dollari, oppure un area 1,15, 1,16 per andare ad acquistare Euro. Certo, va bene, allora Andrea De Gaetano, grazie mille naturalmente per la tua collaborazione, ci sentiamo presto sulle fonti TV e buona giornata, buona operatività. Grazie mille a voi, buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata, allora tra poco noi apriamo una breve parentesi su il futuro diciamo così del nostro paese, sotto più aspetti in questa settimana, siamo nel pieno della nostra settimana dedicata all'assicurazione e al risparmio, perché sono tutti aspetti ovviamente che riguardano la nostra economia a 360 gradi, quindi ci dedicheremo a quello poi torneremo sui mercati. Tra poco parleremo dell'Italia, del futuro, i nuovi confini dell'asset management. Grazie mille.